Ti è mai capitato di vedere dei morsetti, classici morsetti a cappuccio, in cui i cavi erano con il rame fuori dal morsetto? Guarda, sta a vedere questa immagine. Qui vedi c'è scritto sì perché l'isolante è tutto bello dentro al morsetto a cappuccio, qua c'è scritto no perché il rame è fuori. Ora, la domanda che ti voglio fare in questo momento e fai molta attenzione è avere un morsetto in cui c'è il rame, sappiamo è un conduttore e che c'è tensione quindi è pericoloso, quindi avere il rame che è fuori da quel morsetto a cappuccio è un impianto fatto a regola d'arte oppure no? Lasciami un tuo commento. Ovviamente questi morsetti sono dentro delle casfette di derivazione, sono quindi protetti eccetera eccetera, ma la domanda è, quell'impianto è a regola d'arte oppure no?